Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, un recente post del nostro ministro dell'interno ci offre un assist, ci dà l'occasione di parlare di una delle canzoni italiane più famose e più belle a mio giudizio, che è Il pescatore di Fabrizio De Andrè. Una canzone molto cantata sulla spiaggia, molto in qualche modo nazional-popolare addirittura, ma che in realtà, secondo me, e lo vedremo cercando di analizzarla, non è così facile da fare propria, non è una canzone così per tutti come l'uso che ne viene fatto di solito sembra suggerire, anzi è una canzone molto problematica, perché assieme ad un messaggio universale, che è quello che ci avvicina empaticamente alla canzone, contiene anche una visione di mondo, che è quella di De Andrè, che non è assolutamente alla portata di tutti, forse non è neanche desiderabile da tutti. In ogni caso, cerchiamo di leggere questo testo e cerchiamo di capire che cosa racconta questa canzone, che già di per sé è problematico, perché è una canzone molto ambigua, quasi polissemica, potremmo dire, e ci sono diverse interpretazioni possibili, io cercherò di dare la mia, le mie in realtà, quelle che mi vengono in mente, voi date le vostre, facciamo la tara, vediamo cosa salta fuori, sempre considerando che ogni interpretazione ha bisogno delle altre, e non si deve sognare di essere quella conclusiva e definitiva, men che meno su un'opera che vuole essere ambigua, a mio modo di vedere. Iniziamo con il testo. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, non famosa, di più, questa canzone. Prima cosa importante, la prima strofa è speculare con l'ultima della canzone, c'è questo effetto per cui l'inizio è uguale alla fine, è molto, secondo me, affascinante come soluzione in questo pezzo, perché nel momento in cui conosci già la canzone sai già qual è il finale, sai già qual è il messaggio alla fine e la canzone te lo ricorda appena inizia. All'inizio però fossimo ignoranti del testo, l'ombra dell'ultimo sole potrebbe essere semplicemente un tramonto, un pescatore è la prima figura che ci viene introdotta, con un solco lungo il viso, può essere la ruga di un uomo probabilmente non più giovane, che fa un mestiere antico, come una specie di sorriso, quindi un sorriso di una persona molto saggia, quasi beffata, questa immagine vaga che ci viene introdotta, venne alla spiaggia, chiaramente un pescatore, la spiaggia, un assassino, c'è subito un giudizio, questo è un assassino, vuol dire che ha già ucciso, e la canzone non ha dubbi sul fatto che questo secondo personaggio sia colpevole, non sarà problematico chiederci se sia o meno colpevole di assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi da paura, erano gli specchi di un'avventura. Gli occhi grandi da bambino sono cruciali, questa figura, la figura dell'assassino, ha in sé qualcosa dell'infanzia, ha in sé qualcosa dell'età giovanile cui sembra non avere rinunciato, volutamente non avere rinunciato, ha conservato in sé un piglio infantile che in qualche modo ne fa un non integrato, un escluso, probabilmente una persona a margine della nostra società, comunque che non si integra ad essa, proprio in virtù di questa sua fanciullezza conservata a dispetto di un sistema, potremmo pur dire, che dovrebbe fartela perdere. Questo è sicuramente uno dei contenuti di questa canzone. Due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. La paura è ancora nei suoi occhi. Perché ha paura? Perché è inseguito, lo scopriremo subito, perché scopriremo subito che quello che ha appena compiuto, l'ha compiuto appunto da poco. Gli specchi di un'avventura, un'avventura che lui sta vivendo in impresa diretta, è un fuggiasco questo assassino. E chiese al vecchio, dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. Il poco tempo naturalmente significa che è di corsa, sta scappando. Probabilmente ha appena compiuto il suo assassino o è appena stato beccato, riconosciuto, chi lo sa. Ho poco tempo e troppa fame e chiese al vecchio, dammi il vino, ho sete e sono un assassino. È molto importante questo passaggio perché ci serve a capire che il vecchio, il pescatore, è conscio dello status di assassino, di questo ragazzo giovane. Non ci potrà essere in nessun modo l'idea che il vecchio non sappia che persona ha davanti. Lui si identifica. Io sono un assassino, dammi da mangiare e da bere. Ovviamente identificarsi come assassino suona anche minaccioso, come dire, ehi, occhio, che io sono un assassino, fai quello che ti dico. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno. Quindi abbiamo la sensazione di un vecchio che ha dei tempi di reazione e una sfera, come possiamo dire, sta vivendo emozioni molto diverse dal giovane. Lui gli ha parlato, trafelato e lui ancora aveva gli occhi chiusi, no? Dischiude gli occhi, no? Dischiuse gli occhi. Il vecchio al giorno non si guardò neppure intorno. Il non si guardò neppure intorno è fondamentale perché ci fa capire che il vecchio non ha paura, non è impressionato, ha ascoltato con quel suo sorriso introduttivo il discorso del ragazzo, l'assassino. Ma versò il vino, nonostante non si è impressionato, nonostante probabilmente gli importi poco di questa ansia del ragazzo, versa il vino, spezza il pane per chi dice ho sete, ho fame. È superfluo dire che questa è la parte che colpisce emotivamente, è la parte che ci fa vedere nel vecchio una figura cristologica, in qualche modo una figura simile, se non direttamente alludente, alla figura di Cristo che sfama da corpo e sangue all'affamato, all'assetato. Questo è il momento alto, è il momento in cui di solito quando si pensa a queste canzoni si dice il vecchio non giudica l'assassino, si astiene dal giudizio ma risponde i suoi bisogni. In qualche modo in realtà è un giudizio a sua volta dal mio punto di vista ed è il giudizio più difficile di tutti, è il perdono. Il perdono è un giudizio. Io ti perdono, ti giudico perdonato. È una cosa molto importante. Il vecchio non è interessato al fatto che costui possa essere un pericoloso assassino ma soltanto al fatto che gli ha espresso un bisogno che lui può soddisfare e quindi lo fa senza pensarci, senza tentennare, senza spaventarsi. Anche questo è molto importante. Per il vecchio quello che conta è la sua condotta, è aiutare il bisognoso e questo per lui è quanto. Non c'è altro imballo se non una condotta da rispettare senza neppure un fremito in un certo senso. E fu il calore di un momento, un momento di solidarietà che arriva dal vecchio. Poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Il vento, il sole, la fuga, si riparte subito. Il calore di un momento è stato un istante nella vita di corsa di questo assassino che ci dà proprio l'idea di un impeto giovanile. Dietro alle spalle un pescatore, il pescatore rimane indietro. La memoria è già dolore, è già il rimpianto di un aprile giocato all'ombra di un cortile. Questa è di nuovo, la memoria è quella dell'assassino. È già di nuovo la visione, come vi posso dire, è come se lui si fosse fermato e nel calore di quel momento avesse avuto uno squarcio nella fuga, della fuga, avesse avuto uno squarcio di riflessione su di sé. E ancora una volta un'immagine infantile. La memoria è già dolore, cioè il rimpianto di un aprile, qualcuno qua ci vede un riferimento alla Pasqua, io non calcherei troppo, giocato all'ombra di un cortile. L'aprile all'ombra del cortile non è soltanto una rima, è anche l'idea di una giovinezza che non è stata rifiutata da parte dell'assassino. Gli occhi da bambino. Per un secondo lui si ferma a pensare a cosa è stato della sua vita, a cosa ha fatto della sua vita, a che cosa ha scelto di fare, ha giocato. E quel gioco è un rimpianto perché avrebbe potuto essere qualcosa di diverso il suo percorso invece. E qui a scappare. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se le vicino fosse passato un assassino. L'assassino, il ragazzo, è inseguito, arrivano subito. Lo percepiamo come una cosa che accade abbastanza in fretta. Lui ha fatto in tempo a scomparire, ma gli sono addosso. C'è una certa dinamicità. Gendarmi con le armi, quindi sono in divisa, sono in uniforme, ci ricordiamo di Andre che cosa diceva, delle persone in uniforme, eccetera, eccetera, in altre sue canzoni. E hanno le armi, canzoni, e hanno le armi. Hanno le armi vuol dire che sono a caccia dell'assassino. Non sono soltanto in un uniforme formale, ma stanno lavorando all'inseguimento di questo assassino, con il quale eventualmente saranno pronti a uno scontrofuoco, a sparargli, a ucciderlo se necessario. E chiesero al vecchio se le vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole si era assopito il pescatore, aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. Questo è il punto ambiguo della canzone. Noi non sappiamo se, come credo io, come è sempre stata la sensazione che mi ha dato questa canzone, il vecchio, faccialo gnorri, sostanzialmente il vecchio copre il ragazzo, perché è più consapevole di quello che pensavamo. Il vecchio sa, se non necessariamente chi è di persona, esattamente individualmente quel ragazzo, sa che cos'è quel ragazzo. E secondo me è l'anarchico. Dide André, è colui che ha ucciso e non è assolto dall'essere ucciso. Sono sempre molto problematiche le figure umane, non sono buone e cattive, è André. Ma è fuori dalla società, è fuori dal sistema. E la sua libertà ha un prezzo che non è soltanto il ripianto dell'aprile, il rimpianto dell'aprile, ma probabilmente anche trovarsi così alle strette da doversi macchiare di delitti tremendi. E quindi il perdono del pescatore è anche una visione comprensiva verso l'anarchico, forse addirittura verso il terrorista. Potrebbe essere Cesare Battisti, questo assassino. È una figura perfetta da incollare sopra questa canzone. E come? Conoscendo De André. E quindi il pescatore fa finta di nulla, fa l'ognorri perché lo copre. In questo senso la pietà universale che la canzone ci porta viene usata da De André per mostrarti il suo significato politico, per mostrarti il fatto che il vero approccio cristiano è fuori da questo tritacarne che è il nostro mondo e la nostra società. E l'assassino, che pure è un assassino, va perdonato. Il pescatore lo perdona e lo copre, e copre la sua fuga. Questo non è non giudicare, questo è schierarsi e come? È decidere che i gendarmi che rappresentano lo Stato, per cui un anarchico come De André non impazzisce di simpatia. I gendarmi vengono in qualche modo turlupinati dall'atteggiamento del pescatore, oppure ovviamente c'è un'altra visione possibile. Il solco lungo il viso altro non è che il taglio del pugnale. L'assassino ha ucciso il pescatore che non sta dormendo ma è morto con un solco lungo il viso come una specie di sorriso, che è il taglio. Adesso anche io faccio fatica a immaginarlo perché non è che glielo fai qua, glielo fai qua. Comunque può essere in qualche modo una specie. Ci sono queste due visioni, cioè lui l'ha ucciso ed è andato via perché è davvero un assassino efferato, oppure il pescatore furbacchione lo sta coprendo. In ogni caso il pescatore, secondo me, rimane il valore del sorriso. Anche fosse stato ucciso il pescatore in qualche modo ha un sorriso che non è soltanto il taglio ma è anche da come si è visto, da come si è mosso, dalla pacatezza e dall'assenza di dubbi che ha avuto nel mostrare solidarietà. È comunque pago della solidarietà che ha mostrato. Era comunque quello che gli interessava. Fosse anche stato ucciso. Lui può essere sereno. L'ombra dell'ultimo sole a questo punto, l'ultimo sole non è più soltanto un tramonto ma è la fine della vita del pescatore. Per questo era una premonizione in questa interpretazione nella prima strofa. Nella prima strofa ha sopito, diventa la morte naturalmente, il solco. Come abbiamo detto, secondo me rimane in qualche modo l'immagine del sorriso sul pescatore. Anche in questa visione il pescatore si è comportato bene, quindi comunque ha aiutato l'assassino, però ovviamente l'assassino si dimostra molto più efferato di quello che potevamo immaginare. Naturalmente la figura dei gendarmi rappresenta l'istituzione, rappresenta lo Stato, rappresenta il potere coercitivo con cui lo Stato punisce. Chi non rispetta le sue regole, ovviamente regole zero per l'assassino anarchico che fugge e che non sappiamo in realtà per quale motivo e per come abbia compiuto il suo efferato gesto, insomma non è una canzone così facile da fare propria. Non è così facile, per così dire, anche fosse stato ucciso. Sentirsi così solidali con l'assassino fa specie, ovviamente, che la canzone sia stata condivisa dal ministro dell'interno, che è il ministro del potere coercitivo al servizio dello Stato per eccellenza, che dalla mattina alla sera si condivide su Facebook con le insegne delle forze dell'ordine, non fa altro che dirci anche giustamente quanto dobbiamo essere grati al lavoro delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. La visione di De Andrè era fra le più antisalviniane che ci possiamo immaginare. Questa canzone rimane ambigua, ripeto, secondo me il pescatore fa l'ognorri, secondo me il pescatore fa il furbo, De Andrè secondo me è perfettamente consapevole, vuole questa ambiguità. Ripeto, è l'ultima persona al mondo che ti immagineresti a condividere una canzone come questa, è il ministro dell'interno, è il capo dei gendarmi, in qualche modo, che sono comunque beffati all'interno di questo pezzo, che secondo me solidarizza, umanizza e ci vuole mostrare il lato in qualche modo umano dell'assassino, che ha perso qualcosa, prima di tutto ha perso la pace, perché è ansioso, è terrorizzato, è in fuga, ma ha qualche cosa in più degli altri, ha gli occhi da bambino e quell'aprile di cui ha rimpianto in qualche modo, perché ovviamente avere conservato l'animo dell'infanzia lo ha escluso da un mondo che non ti consente di farlo, è comunque una ricchezza, è comunque anche una ricchezza che il pescatore riconosce, che gli costi o meno la vita. Quindi canzone molto problematica, molto politica, guai a pensare che questa sia soltanto una canzone di carità cristiana, laica, che quindi chiunque può prendere a sé perché non richiede alcuna metafisica, no, 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 nulla di tutto questo. Conosciamo le posizioni anarchiche di De Andrè, conosciamo quella che era la sua visione del mondo, che è il contrario letteralmente di quella di un Salvini, ad esempio, e se io fossi un gendarme nel mondo reale, cioè uno che lavora per le forze dell'ordine, magari simpatizzante per Salvini, perché spesso è costantemente gratificato dai post del ministro dell'interno e vedessi questa condivisione, penserei onestamente, ma, ma come? Come? Questa non è la canzone dei gendarmi, come non lo sono mai le canzoni di De Andrè. Quindi a questo punto la domanda che rimane, e come dicevamo, l'assassino qui potrebbe tranquillamente essere un Cesare Battisti, no, e il pescatore potrebbe essere un Gian Maria Volontè, no, che portava i terroristi in Francia e li metteva in salvo, perché no? È più che aderente, sia alla visione del mondo che aveva De Andrè, sia all'epoca ovviamente in cui queste canzoni erano scritte. Quindi non solo per il ventennale della morte di Fabrizio De Andrè Salvini ha condiviso questa canzone, liberissimo di farlo, la libertà di Salvini di postare quello che vuole è la nostra, quindi bellissima libertà, fa piacere che un account da più di 3 milioni di follower condivida le bellissime canzoni di Fabrizio De Andrè, quindi tutto bene, tutto bello, però non si può non notare una contraddizione che onestamente dovrebbe colpire soprattutto i sostenitori. Dovrebbe fargli dire, ma scusa, naturalmente a mio modo di vedere tutto questo, spostandoci sulle strategie di comunicazione di Salvini che sono così al centro dell'attenzione, tutto questo fa parte di questa catena di montaggio dei dieci post al giorno, eccetera, e di una strategia politica che punta al nazional popolare, che punta alle maggioranze berlusconiane e democristiane e non alla nicchia estremista, ovviamente Salvini ha e pare abbia ragione di puntare a questi consensi enormi in questo flusso ricchissimo di post che variano dalla politica al cibo a qualunque genere di cosa. C'è anche qualcosa per qualcuno che trovasse un'emozione con una canzone di De Andrè in un cerchio bottismo della comunicazione che diventa quasi inevitabile quando vuoi essere leader di una fetta così grande degli italiani. Quindi secondo me più che pensare Salvini ha capito una fava di De Andrè, è possibile, è sempre possibile assolutamente, ma strategicamente la contraddizione non è un problema. Anzi, la contraddizione in in questo flusso che è così ricco da essere smemorato, smemorato soprattutto per chi lo sorbisce, magari poco attentamente, c'è di tutto. Non ha importanza che ci sia un filo. L'importante è che ci sia qualche cosa per tutti. Questo secondo me, da un punto di vista della comunicazione, la canzone è molto bella, è molto meno leggera di quello che si può pensare. non so se secondo voi, questa cosa mi ha sempre dato da pensare, non so se secondo voi il pescatore sia stato sgozzato in qualche modo dall'assassino, oppure abbia fatto lo Gnorri. Io me lo immagino Gnorri, però effettivamente un solco lungo il viso come una specie di sorriso, è davvero quell'ambiguità che rende poi bello un testo come questo. Non esiste la parola fine a queste interpretazioni e quindi la canzone è molto valida. Grazie mille per aver seguito questo video, ragazzi, ci vediamo al prossimo.